Eccoci in diretta sempre da Campione d'Italia per il torneo organizzato da SMI Poker & Games qui al Casino di Campione d'Italia. Siamo in diretta su pokeritaliaweb.org, come vedete la sala si è svuotata, ma non perché i giocatori sono diminuiti, ma perché è metà della sala e in pausa cena sono ancora 340 i giocatori in gioco. Veramente tantissimi, sono stati 390 i giocatori che hanno preso parte a questo main event qui a Campione d'Italia. Sto facendo una passeggiata in mezzo ai tavoli. Passeggiamo un po' in mezzo ai tavoli da gioco. Sto facendo un po' in mezzo ai tavoli. Oggi siamo io e Cirrus Gutti, domani invece verrà Guru dei due. Il torneo, ricordiamo, terminerà domani, lunedì 28 dicembre 2009. Grazie. 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 Grazie.